Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presento una nuova collezione, le card di Captain Tsubasa, conosciuto da coloro che sono nati come me negli anni 90 o ancora prima negli anni 80 come Olly e Benji. In questa fantastica collezione realizzata da Panini e da Tomy, Tomy è una storica azienda giapponese, abbiamo questo starter pack che contiene un album per contenere le nostre cards, più 4 bustine e un campo da gioco. Il prezzo, lo vedete bene impresso qui sopra, è di 9,90€. Guardate che belle le immagini, la copertina dell'album che poi richiama anche la copertina delle cards. Se giriamo, la confezione ci illustra come è composta questa bellissima collezione, 150 card da collezionare, quindi la collezione si completa di 150 pezzi, di cui 86 card speciali e 64 card regular. E qui possiamo vedere alcuni tipi di card che possiamo trovare all'interno dei pacchetti, come l'ultra rare gold, stampa su metallo con applicazione di oro a caldo. Due soggetti sono ripresi dalle regular, oppure le super rare hologram, card stampate su hologrammatico multiriflesso. Sei soggetti sono ripresi dalle regular e via via tutte le altre. Allora, adesso apriamo questo fantastico starter pack e ci gustiamo lo spacchettamento delle quattro bustine contenute al suo interno. Vai! Ed ecco qua tutto il contenuto della busta, i quattro pacchetti, guardate un po' che spettacolo, con Subasa, ossia Oliver Hutton, impresso sul pacchetto. Questo è il campo da gioco, ce lo vediamo subito come è fatto. Ecco qua il campo da gioco, come è realizzato. Qui ci parla anche dello svolgimento della partita, quindi le regole di gioco, vedete. E se lo giro è lo stesso, solo che da una parte abbiamo la Muppet. Mark Landers, Ed Warner, Danny Mello, io li chiamo proprio con i nomi dei miei anni, del cartone Oli e Benji degli anni 90. Poi è stato rifatto qualche anno fa, proprio pochissimo tempo fa, e va ancora in onda. La casa produttrice del cartone ha voluto che fossero mantenuti i nomi originali, sia per quanto riguarda il titolo del cartone, sia per quanto riguarda i protagonisti del cartone e tutti i personaggi del cartone. Quindi quello che prima era Oliver Hutton, ora è Subasa, per esempio. Quello che prima era Benji Price, ora è Kobayashi. Wakabayashi. Questo quindi appunto, da una parte abbiamo la Muppet, da una parte abbiamo la New Team. Ed è il campo da gioco, lo abbiamo visto. Eccolo qui. Lo mettiamo via adesso il campo da gioco. Queste credo che siano le regole. Sì. Allora, guida per il giocatore. Che genere di gioco è Captain Subasa? Le partite di Camper to Basa Football Card Game si svolgono fra due giocatori che utilizzano ciascuno un mazzo principale di 40 carte. E' un mazzo extra composto da 6 carte al massimo. Lo scopo del gioco è che il primo giocatore a segnare due golle vince. E quindi qua ci illustra tutto il gioco. Bene. Utilissimo. E qui invece credo che ci illustri... Vabbè, qui c'è un glossario. Ah, questo ecco appunto. Le regole per la formazione del mazzo. Vedete, qui ci sono tutte le regole per la formazione del mazzo. Questo è il glossario. Anche quello comunque è utile. E qui insomma un po' le domande frequenti. Ci chiarisce alcuni aspetti di gioco. E anche alcuni aspetti relativi appunto alle card stesse. Bene, molto bene. Quindi ragazzi è fondamentale prendere questo starter pack. Veramente importante. Questo è l'album che conterrà le nostre carte. Guardate che spettacolo. Allora, la prima immagine riprende quella dei pacchetti. Ma poi all'interno ce ne sono delle altre. Vedete? Guardate che belle immagini. Alla fine ce n'è un'altra. Immagini spettacolari. Mamma mia che spettacolo. E poi si conclude così. E adesso andiamo ad aprire i nostri bei 4 pacchetti. Quindi vediamo le card e scopriamo chi troveremo. Insomma vediamo un po' chi troveremo. Adesso lo scopriremo. Allora, apriamo il pacchetto. Questo è il primo pacchetto. Non so dirvi il prezzo di ogni pacchetto perché non c'è scritto purtroppo. Quindi non posso darvi questa informazione. Quindi non posso dirvi il prezzo di ogni singolo pacchetto. Ma vi posso limitare a dirvi che questo starter pack costa appunto 9,90€. Allora, Wakabayashi. Eccolo qui. Che quelli della mia generazione hanno conosciuto come Benji Price. Eccolo qua. Wakabayashi. Il retro delle card. Ve lo mostro. Ecco qua. Mi era caduta. E' fatto così. Eccolo qua. Poi abbiamo Taro Misaki. Vedete qui ci dice anche alcune informazioni. Una volta giocavo con il Megua. Ma ora sono nell'Anankatsu. Quindi preparati perché ora siamo avversari. E io lotterò con Subasa. Per far vincere questo torneo alla mia squadra. Ci dice anche il ruolo. Centrocampista centrale. La squadra. Qua tutti i valori d'attacco. L'assist, il controllo, la difesa. Il nome e il cognome. Quindi sono fatte veramente molto molto bene. Qui abbiamo invece il quartiere della Shutezu. Quindi vedete se sul tuo campo sono presenti almeno tre. Fra Kisugi, Taki e Isawa. E Shingo, Takasushi. Pesca due carte. Ecco qua. Qui abbiamo Kojiro Yuga. Che noi conosciamo come Mark Lenders. Il Megua sarebbe la Muppet. I vecchi nomi occidentalizzati. Qui abbiamo Urabe. Che se la memoria non mi inganna era Morrison. La palla è il tuo amico non avere paura. Classica frase tipica proprio di Tsubasa. Qui abbiamo delle card speciali. Se ne trovano due in ogni pacchetto. Ritroviamo quella di prima. Solo che l'abbiamo... Quindi questa card l'abbiamo sia in versione regular che in versione speciale. Eccola qui. E poi abbiamo... Una card gold di Taro Misaki. Eccola qua. Che sarebbe Tom Baker. Per chi ha conosciuto il cartone con... Con... Con i vecchi nomi occidentalizzati. E non con quelli nuovi esclusivamente in giapponese. Allora, apriamo anche il secondo pacchetto. Vediamo un po' chi troviamo all'interno del secondo pacchetto. Fatte molto bene queste card. Molto carine. Una bella collezione. Il cartone è spettacolare. Ecco qua. Le card del secondo pacchetto. Qui abbiamo Yuchi Kawaguchi. del Meigua. Taki della Nankatsu. Poi abbiamo Nagano del Meigua. Ishi del Meigua. Takasugi della Shutetsu. Kisugi della Nankatsu. E poi qui abbiamo due card speciali. Ci sono in ogni pacchetto, come vi ho detto prima. Abbiamo il tiro a sorpresa di Sawada. E poi abbiamo Benji, che viene sfidato da Tsubasa. Wakabayashi sfidato da Tsubasa. E anche il secondo pacchetto è andato. Adesso, terzo pacchetto. Di questo Starter Tech. Andiamo con il terzo pacchetto. Ecco qua le card che escono fuori. E adesso ce le gustiamo, come al solito, una per una. Qui troviamo la card di prima. Solo in versione regular. Perché prima l'abbiamo trovata speciale. Controllo. Per assicurarmi che non sia già il primo doppione. Ma sì, infatti avevo ragione. Così l'abbiamo trovata in versione speciale. Ve le mostro. E' proprio quella di prima, del pacchetto che abbiamo aperto prima. Eccola qua. Regular e versione speciale. Eccola qua. La rimettiamo qui. E continuiamo, anzi, a vedere le card di questo pacchetto. Allora, questa l'abbiamo vista. Qui abbiamo Genso Wakabayashi. Qui abbiamo Nishio. Poi Kisugi. Sempre tra Ranakatsu. Sempre tra Ranakatsu abbiamo Isawa. Poi qui abbiamo il momento della rovesciata. Di Taro Misaki. La card speciale. Una delle due card speciali di questo pacchetto è questa qui. Lotta di Cuscini. E poi abbiamo Sawada. E poi abbiamo Sawada. Eccolo qua. Sawada. Apriamo l'ultimo pacchetto. Tanto avvicino anche l'album con le cards. Molto belle queste cards. L'ho già detto. Lo ripeto. Sono fatte bene. Molto, molto belle. Allora, qui abbiamo invece Nakanishi del Naniwa. Poi qui abbiamo l'allenatore del Naniwa. Koso Kira. Qui abbiamo della Shutezu Kisugi. Poi sotto abbiamo della Musashi Misugi. Poi abbiamo Misaki della Ranakatsu. Poi abbiamo Misaki Furano. E poi qui abbiamo. L'abbiamo trovata regular. La troviamo anche in versione speciale. La card dell'allenatore del Naniwa. Eccola qui. E poi qui abbiamo la dichiarazione di vittoria. Di Mark Lenders. Ok. E insomma ragazzi. Queste sono le card di Captain Tsubasa. Se vi è piaciuto il video lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi al canale per non perdervi questo e tanti altri video. Se siete collezionisti questo è il canale che fa per voi. Qui arrivano tutte le nuove collezioni. Quindi iscrivetevi al canale. Vi godete gli unboxing. E in più rimanete aggiornati su tutte le novità. In descrizione vi lascio anche il link delle pagine Facebook e Instagram del canale. Se volete seguitemi anche lì. E in descrizione trovate anche il link del blog. Se volete fateci un salto. E noi come al solito ci becchiamo al prossimo video. Ciao belli.